Gli elettori penseranno all'operato dell'UE quando voteranno per le elezioni europee? I candidati fanno campagna elettorale sull'Europa? In Francia, Jordan Bardella, capo della lista Rassemblement National, non esita a descrivere le elezioni europee come elezioni di medio termine e chiede sanzioni contro l'Europa di Macron. L'elezione d'envergure avant la prossima presidenziale en 2027, c'è un scrutin di liste nazionale, quindi la tentazione è forte di nazionalizzare il scrutin. Nel 1980, due ricercatori hanno descritto le elezioni europee come elezioni nazionali di secondo ordine perché sono organizzate a livello nazionale, secondo regole nazionali e contrappongono candidati nazionali su questioni nazionali. Anche le procedure di voto, il giorno e l'età legale per votare o candidarsi alle elezioni variano da uno Stato membro all'altro. L'europeizzazione delle preoccupazioni è più forte tra i dirigenti, i laureati e le persone più abbienti. Le recenti crisi però hanno messo sotto i riflettori l'operato dell'Unione Europea. Resta da vedere se questo contribuirà a una europeizzazione del voto. Quest'anno le questioni europee rischiano di essere messe in ombra da quelle nazionali nelle elezioni, con l'attenzione di molti paesi diretta altrove. Nel corso del 2024 infatti si svolgeranno, si sono già svolte, le elezioni presidenziali in Finlandia, Slovacchia, Lituania e Romania, mentre si rinnoverà, o se già rinnovato, il Parlamento in Portogallo, Austria, Belgio e Croazia. D'altra parte le questioni europee si stanno facendo strada anche nelle elezioni nazionali, anche perché i due livelli sono talvolta così intrecciati che è difficile separarli.